Siamo partiti col piede giusto, anche se non ci possiamo rilassare dobbiamo essere sempre concentrati, anche perché poi le partite corrono di settimana in settimana e domenica abbiamo un avversario impegnativo. La consapevolezza di aver dato un'ossatura robusta alla sua squadra, la volontà di perfezionare tanti dettagli, la certezza rappresentata dai quattro punti conquistati nelle prime due partite. Luigi Panarelli, allenatore della Fidelis Andria, parte con questo bagaglio in direzione Sorrento, sede del prossimo impegno di campionato dei Biancoazzurri, allo 0-0 del Degli Olivi contro l'audace Cerignola e mancato solo il gol, sfiorato dalla Fidelis e dagli ospiti che hanno anche fallito un calcio di rigore con Leonetti. Squalificato dopo la trasferta di Bitonto, Panarelli ha assistito alla gara dalla gradinata in quello che era il giorno del suo ritorno nello stadio di Andria, dopo l'esperienza da calciatore di 21 anni fa. È stato un ritorno un po' particolare anche perché non sono stato in panchina, mi ha sostituito degnamente, sta saldalterio anche perché ho molta fiducia nel mio staff, però non mi do l'ora di occuparla io con la panchina anche perché nutro diversi ricordi e ricordi positivi in quello che è stato poi il mio passato ad Andria come calciatore. Tra i dati che la classifica evidenzia c'è anche il numero 0 alla voce gol subiti, merito di un 3-4-2-1 solido che fa del raddoppio sull'avversario e della copertura degli spazi dei capisaldi. Panarelli, ospite di Pane Amore e Fidelis su Telesveva, si dice soddisfatto dell'organico allestito, rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione con la conferma del solo zingaro. Con l'intero gruppo che ho adesso a disposizione lavoriamo anche da tre settimane e mezzo diciamo e quindi c'è molto ancora da lavorare, si può migliorare perché i margini di miglioramento sono enormi e quindi spero e penso che al più presto possiamo dimostrare quello che poi è l'intero valore della rusa messa a disposizione. Prima il sorrento, poi Picerno e Brindisi, avvio di stagione dal sapore di Tour de Force per la Fidelis che ha anche un obiettivo a lungo termine, rivedere compatibilmente con i numeri dell'emergenza sanitaria i tifosi sugli spalti. Un altro obiettivo che abbiamo noi oltre a impegnarci a dare tutto per questa maglia è far ritornare l'entusiasmo qui in città e spero che con i ragazzi questo ci possiamo riuscire e spero poi che ci siano delle novità importanti per quanto riguarda poi gli spettatori all'interno dello stadio stesso.